Perciò torneremo in questa ragazza che è uscita e dalla pararia apposta, le nuove le scelte le persone. Prima di partire ci sono le raccomandazioni, si può poter fare filmare su una volta moderna, perciò oggi ci partiamo di fare qualche interlocutazione con le pade, perciò non possiamo stare tranquilli, quindi direttamente. Grazie per la visione!